Il risultato. E da Foligno il Messina deve vincere a tutti i costi per rimanere in Serie C1. Passa in vantaggio con Pedrazzini. Il raddoppio ad opera di Del Rosso servito da Mancuso. Sullo 0-2 si svegliano gli Umbri che accorciano con Scarsella su calcio di punizione e pareggiano con Mariotto su calcio di rigore. Il gol decisivo per il Messina realizzato da Giorgio Repetto. È un gol che vale la permanenza in Serie C1. Nel finale il Messina aveva anche rischiato ma per effetto di questa importante vittoria